Chiamami Giorgia, sarò la tua premier. Che bellezza la personalizzazione e il turbo liberismo della nostra Evita Peron. Una volta c'era il cavaliere, l'unto del signore che saliva sul predellino al grido di che pensi mi, ci penso io. E oggi invece abbiamo la sorella del popolo, una di noi, Giorgia, e sai chi voti. Ma poi davvero sappiamo chi votiamo? Davvero fuori da questa ubriacatura di narcisismo politico che ha contagiato tutti con l'apprezzabile eccezione di Giuseppe Conte, nel trucchetto, nella piccola truffa elettorale di mettere sulla scheda il proprio nome, sapendo che a Bruxelles però non ci si andrà. Dicevo, lo sappiamo davvero chi stiamo mandando in Europa? Sul serio questa sfilza di candidati bandierina che a malapena scrivano e parlano l'italiano, figuriamoci l'inglese, possono rappresentare l'Italia all'estero? Ma la politica nostrana piace così. Giorgia Meloni detta Giorgia, Roberto Vannacci detto il generale. Salvini ha addirittura messo meno Europa sul suo manifesto elettorale per le elezioni europee, che è un po' come chiedere meno potere alle regioni quando ti candidi alle elezioni regionali, oppure festeggiare la liberazione del giorno del 25 aprile e contemporaneamente candidare un generale fascistoide. Il PD poi, per oscurare il generale Vannacci, ha fatto un post, ignoralo, che ha totalizzato il record di visualizzazioni, mirabile astuzia come sempre. E infine c'è il sottosegretario Sgarbi, l'ex sottosegretario Sgarbi, cacciato dal governo che rientra dalla finestra dell'Europarlamento. Insomma va in scena la sagra dell'improvvisazione e del raggiro politico. Il voto europeo come scaldamuscoli, declassato a misura della propria limitata influenza nazionale. E allora torno alla domanda iniziale. Chi mandiamo davvero in Europa nel momento più delicato dal dopoguerra? Leggete questo dato. Importazioni di veicoli elettrici dalla Cina all'Unione Europea in miliardi di dollari. Nel 2020 1,6 miliardi. Nel 2023 11,5 miliardi. Più sette volte in quattro anni. E allora secondo voi, tra un bonus da 100 euro lordi e una tantum e i mirabolanti incentivi elettorali, qualcuno saprà salire su un palco elettorale o magari in un'arena televisiva e rispondere a questa semplice domanda. Come la salvi l'Europa dall'invasione della Cina? Come la salvi la nostra industria automobilistica europea in questo modo? Sei a favore o sei contro i dazzi alle auto elettriche cinesi? E se i dazzi li metteranno Trump e Xi Jinping, noi che cosa faremo? Tu che mandiamo, te che ti mandiamo in Europa a rappresentarci, che cosa dirai? Qui non ci sono risposte facili. Non basta chiamarti Giorgia per spiegarlo o il generale. Serve un'idea di Europa. Servono candidati esperti, competenti, in grado di interpretare il mondo che cambia. Altro che sorelle del popolo, generali razzisti e piccoli emoli di Berlinguer. Che poi, davanti a questi qui, vi immaginate che cosa potrebbe mai dire Enrico Berlinguer?